Una domanda per tutto il cast Qual è stato il primo pensiero che avete avuto quando avete scoperto di essere i protagonisti della prima serie italiana Adult Young di Netflix? Che figata! Aiuto! Aiuto! Come faccio con la storia? Io sono saltato! Io ho pianto! Fantastico! Poi una domanda per Flavia Leone Livia è tra i personaggi più ostinati e profondi della serie Fatica a ritagliarsi un suo spazio perché è troppo occupata ad essere una buona sorella o una brava figlia o un'amica quasi perfetta e quasi fatica a esprimere al meglio la sua personalità Pensi che questo sia un problema comune tra i ragazzi della tua età? Oddio Credo di sì perché comunque tutti cerchiamo un po' di essere la parte migliore di noi almeno credo quindi credo che un po' tutti ci ritroviamo in Livia un po' tutti siamo Miss Perfettina quella che ha difficoltà a lasciarsi andare ha difficoltà a capire anche cosa è meglio per lei quindi secondo me sì Poi, ok, grazie una domanda per Andrea Arru Genitori che litigano ogni giorno professori e presidi che sembrano decidere al posto dei ragazzi e bulli che hanno quasi sempre la meglio Pietro nella serie cerca di ribellarsi sempre a queste ingiustizie Quanto Andrea e i suoi amici nella realtà assomigliano ad adolescenti come Pietro? Personalmente io e tutti i miei amici abbiamo questa forma di ribellione con tutti gli adulti perché è un po' l'età adolescenziale dove preferiamo avere la meglio in ogni discussione dappertutto e quindi ci sono sconti continuini anche con i professori quindi io e i miei amici ma come penso anche i ragazzi siamo un po' così Ok, grazie una domanda per Biagio Venditti Daniele è un personaggio dalle mille qualità e tra i più accattivanti grazie a lui si affrontano temi come inclusività e coming out quali sono stati gli aspetti più difficili nel dover interpretare un personaggio così complesso? Allora sicuramente tra gli aspetti più difficili e soprattutto importanti a cui tenevamo tenevo è proprio la naturalezza e la spontaneità con cui Daniele fa coming out perché è una cosa importantissima è proprio il motivo di tutto ciò quindi sì sicuramente questo anche perché il resto l'essere estroverso sono tutti belli aspetti che in cui mi rivedo quindi no Ma ti sei preparato in qualche modo per No in realtà semplicemente sì prima pochi giorni prima ho fatto una preparazione con Pietro anche di rapporto con Pietro nel parlare nel socializzare nel capire meglio l'uno e l'altro e poi comunque ho semplicemente sfruttato dell'empatia Ok l'ultima domanda per tutti voi ragazzi se ci fosse una seconda stagione cosa sognereste per il vostro personaggio? Penso un po' tutti penso un po' tutti di aver affrontato tutte le difficoltà e tutte le nuove esperienze che abbiamo incontrato però ce ne devono essere di nuove ci dovranno essere nuove difficoltà nuovi conflitti nuove cose le nuove esperienze esatto che riaffronteremo però magari farle però forti di quello che abbiamo però sicuramente una classe più unita quello sì un'evoluzione dei vostri personaggi invece in qualcosa di diverso non lo so vabbè io spero che Giulio diventa il più figo della classe lo è già Liam lo è tu non lo sai ma ma no ok sotto sotto allora